Questa mattina è Kimura Aruna, di nazionalità cittadinanza giapponese, di anni 24. Eseguirà nell'ordine di Johann Sebastian Bach, adagio e fuga dalla prima sonata in sol minore, di Wolfgang Amadeus Mozart, concerto in re maggiore KV218, primo movimento e cadenza di Joachim, di Sivori, studio capriccio numero 2 dall'opera 25, e di Nonofodipiz e le variazioni ad libitum allegro, sostenuto allegro dalla tecnica superiore del violino. Sarà accompagnata dalla pianista Mizuko Furukubo. Dopo questa concorrette ci saranno 10 minuti di intervallo. Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie 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 a tutti.